Sabato 29 maggio è la data della Notte Bianca dello Sport di Chieti, una notte speciale per conoscere, scoprire e provare in poche centinaia di metri quelli che vanno da la Villa Comunale e fino a Piazza San Giustino, tanti e diversi sport pallacanestro, calcio, volle, hippie, carti marziali, danza, 110 pattinatori, l'elenco è lunghissimo. Un evento sul quale il CONI ha investito e crede per promuovere l'attività sportiva, per movimentare il centro nel maggio teatino e grazie anche al fedele sponsor della BCC, Sangro Teatino di Atessa. Mille ragazzi da gestire nelle varie piazze della nostra città è un po' difficile, però abbiamo avuto la collaborazione dei dirigenti delle federazioni sportive, dei dirigenti delle società sportive, quindi dovremmo riuscire a portare a termine questa manifestazione nel migliore dei modi. Si parte alle ore? Partiremo, alcune federazioni hanno delle difficoltà perché il giorno dopo hanno delle gare agonistiche e quindi partiremo dalle ore 19 in alcune piazze per terminare la manifestazione oltre mezzanotte sicuramente verso le due del mattino del giorno successivo.